Bella a tutti ragazzi, oggi vi faremo vedere la top 10 delle canzoni più ascoltate del momento Vi lasciamo il video, bella ragazza 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO!